Marisa mi racconti ancora una cosa, i festeggiamenti di quello scudetto, quella serata incredibile, quella giornata incredibile, che ricordi hai? C'era anche Renzo, no Arbore? Allora io ho dei ricordi straordinari perché eravamo andati a Napoli a vedere naturalmente la partita, eravamo io, Renzo e Luciano, Renzo non voleva uscire dall'albergo perché aveva paura dei fan che erano scatenati, io e Luciano riuscimmo a farlo uscire ma Mirta non appena Renzo uscì fuori venne preso in braccio da una folla scalmanata che lo buttava per aria e io e Luciano eravamo talmente che ridevamo che non riuscivamo a bloccare questa folla, quindi Renzo si ritannò in albergo e io e Luciano andammo a Forcella dove ora c'è il mio teatro grandissimo Trianon e io e Luciano andammo a vedere questo spettacolo di Napoli bianchi e azzurra, anche noi venimmo presi in braccio da una folla di scalmanati e depositati in casa di Giuliano che ci offrì un caffè e ci disse non sono boss, ma noi eravamo proprio portati lì, è stata una cosa fantastica che successe a casa di Giuliano, non mi incuriosisce questa storia sì, perché ci portarono a casa di Giuliano che ci voleva salutare e io e Luciano avevamo un colloquio con lui, devo dire molto gentile, ma insomma quello che era naturalmente e poi io naturalmente con Luciano mi divertivo moltissimo, passeggiamo, tu ti ricordi che il giorno dopo la vittoria al cimitero di Napoli apparve uno striscione dove c'era scritto Incavasita Perz e dopo qualche giorno ne apparve un altro, più sotto, vicino alle tombe dove c'era scritto e chi me l'ha detta pure che ce lo siamo perso, questo spettacolo meraviglioso è una delle grandi leggende napoletane vicino del campo mi lanciarono dei garofani azzurri, insomma ragazzi, la verità, sai perché Maradona non ce lo possiamo dimenticare? Mai! Perché è eterno? Perché ci ha regalato un sogno, perché ci ha regalato la gioia, momenti di gioia indescrivibili, momenti meravigliosi in cui noi ci siamo sentiti campioni insieme a lui, questa è la verità e quando diceva Fabio prima che noi non lo abbiamo aiutato, noi non dovevamo aiutarlo Fabio, ma alcune, diciamo che non l'hanno neanche sostenuto, piuttosto io direi questo che non è stato difeso sufficientemente dalle squadre, dai presidenti, perché quando è accaduta quella famosa cosa in cui noi non possiamo dimenticare che lui uscì di campo nella mano di un'infermiera, beh ma nessuno è andato in profondità per capire se quel topic era vero, era falso, se gli avevano dato delle pillole o se lui li aveva prese, io oggi sono convinta che lui non li avrebbe mai prese perché lui comunque pur avendo tutti i difetti, la ribellione, era uno molto leale nei confronti del gioco e della sua squadra. Allora, grazie Marisa.